Leonardo Silva Reviso 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 Florian dadsa eониoisse in Italia Ok, Plaga, 1580. Siamo verso la fine di un secolo che aveva vissuto molti cambiamenti, molte trasformazioni. Un secolo percorso da guerre, da carestie, un secolo in cui tutto il mondo che si conosceva prima era cambiato radicalmente a livello geografico, a livello scientifico, a livello religioso. Erano venuti meno i punti fermi. Una situazione da far tremare le gambe. Come sempre succede, quando vengono meno i punti fermi, dilaga l'insicurezza. E l'insicurezza si trasforma in paura, la paura genera rabbia. E quando la rabbia comincia a diffondersi e raggiunge una certa soglia, la gente cerca un colpevole. In quel caso il colpevole si decise che fosse la comunità ebraica della città. Il rabbino Yehuda Ben Bezzalel era un saggio, un filosofo, un sapiente. Decise di attingere alla conoscenza antica del proprio popolo. Proviamo a immaginarcelo di notte, mentre va vicino al fiume di nascosto per non farsi vedere, comincia a raccogliere fango, probabilmente su una carriola. Quella carriola la porta di nascosto all'interno di una sinagoga o di fianco in un edificio e comincia su una superficie piana. A plasmare una massa di fango. Da questa massa di fango estrae la forma di un uomo. O forse la forma di un gigante. E a questo gigante decide di imprimere, richiamando la sapienza antica, richiamando la tradizione magica, tre lettere. Un alef, un amem e un atet. A comporre la parola ebraica emet, verità. Nel 1580, a Praga, il rabbino Yehuda Ben Bezalel crea un robot di fango. Siamo nel 2023, Cesena. Lo vediamo tutti, lo stiamo vivendo. Siamo in un'epoca in cui tutti i punti fermi stanno venendo meno. Di anno in anno, le convinzioni che avevamo, che avevamo maturato nel corso degli anni, nel corso dei decenni, stanno scomparendo, stanno svanendo, stanno lasciando spazio, si stanno lasciando sostituire da nuovi cambiamenti, da nuovi scenari. Vengono meno i punti fermi e, come sempre, questo fa tremare le gambe. E quando tremano le gambe, si comincia a percepire un senso di fragilità e si cerca di resistere a quella fragilità, di corromperla o di eroderla in qualche modo per cercare di convertirla in sicurezza. Ognuno reagisce a proprio modo, cercando di creare uno spazio in cui sentirsi meno vulnerabile. A volte facciamo ricorso alla sfera delle nostre relazioni e quindi cerchiamo di creare degli spazi di empatia o di condivisione delle preoccupazioni, delle paure, delle aspirazioni. A volte facciamo ricorso magari a delle ambizioni lavorative, cerchiamo di concentrare le energie su qualcosa di costruttivo, cerchiamo di guardare avanti per non sentire sempre lo sguardo teso, forse un po' minaccioso, del mondo che ci sta intorno. A volte facciamo ricorso alla tecnologia, che da sempre, nella storia umana, ha contribuito in qualche modo a ridimensionare quel senso di fragilità, di piccolezza di fronte alla grandezza dell'universo. In questo caso abbiamo chiesto alla tecnologia di aiutarci a decifrare il codice del mondo al posto nostro. Abbiamo chiesto a una tecnologia di aiutarci a decifrare il mistero a cui non riusciamo a trovare chiave. Ora, abbiamo davanti molte possibilità. si rischia sempre di perdere un po' l'attenzione, si rischia di perdere di vista quello che conta, quello che serve davvero. Come quando compriamo uno smartphone che ha mille funzioni, un milione di funzioni, di cui useremo forse solo l'uno per cento nel corso della sua vita. Come quando compriamo lavatrici più intelligenti di noi. o come quando compriamo automobili con talmente tanti accessori, talmente tante funzioni che richiederebbero mesi di studio prima dell'accensione. L'innovazione è un concetto che ubriaca, che inebria, è un concetto che seduce, ma è un concetto che va domato, che noi dobbiamo in qualche modo cercare di domare. Dobbiamo comprendere che l'innovazione non è il massimo livello di possibilità tecnologica, ma è il massimo livello rispetto alla nostra utilità, è il massimo livello rispetto al valore che può generare davvero. E dobbiamo avere chiara la differenza tra una tecnologia che migliora il nostro modo di vivere, che in qualche modo ci mette in condizione di liberare il nostro valore, e la tecnologia invece che semplicemente ci aiuta ad aggirare un po' la nostra pigrizia, la nostra indolenza. Una tecnologia che banalmente semplifica le cose. Migliorare e semplificare evidentemente hanno pesi e valori molto diversi. Ecco, con questo dubbio, con questo ronzio nelle orecchie, dobbiamo affrontare il tema dell'intelligenza artificiale. Normalmente pensiamo all'intelligenza artificiale come una tecnologia quasi fantascientifica che rasenta o che a volte supera la soglia del mistero. e in realtà se proviamo a semplificarla, ad andare al nocciolo della questione, alla sua vera essenza, è un sistema di traduzione. È un sistema che supporta un processo di traduzione in due fasi. La prima è la traduzione che ci permette di scomporre eventi, fenomeni, processi complessi in una sequenza molto precisa di segmenti più piccoli, di singole azioni. Proviamo a pensare alla sequenza esatta di azioni che dobbiamo compiere la mattina quando prepariamo il caffè o alla sequenza esatta di azioni che dobbiamo compiere quando ci prepariamo per uscire di casa e a come queste azioni variano al variare delle stagioni o alla sequenza di azioni che dobbiamo compiere alla sera quando ci laviamo i denti prima di andare a letto. E lo stesso vale per i processi industriali, vale per i percorsi di ricerca, vale per le analisi dell'universo o del mercato qua in terra. La seconda fase è invece la traduzione di questi singoli segmenti, di queste azioni in cui abbiamo scomposto la complessità in numeri, in codici, in stringhe numeriche che ci permettono di restituire con un linguaggio convenzionale, non neutro ma univoco, di restituire la complessità della realtà in una sequenza di sigle, in qualcosa di strutturato che un italiano e un giapponese possono condividere capendo con chiarezza senza che ci sia perdita o manipolazione di informazione. L'intelligenza artificiale ci mette a disposizione tante potenzialità. Siamo abituati a pensare che agisca sulla realtà ma è importante capire che agisce sulla sua proiezione, sulla sua rappresentazione. Come quando facciamo i giochi sulle pagine dell'enigmistica in cui dobbiamo ricomporre delle sagome unendo i puntini numerati che in qualche modo evocano una forma. Alla fine riconosciamo che c'è un fiore, un sole, una persona che si tuffa ma in realtà l'intelligenza artificiale agisce sui puntini, sul modo in cui quei puntini si ricombinano, sul modo in cui danno senso. Ecco, potete capire che trasformare la complessità in una sequenza di puntini non è cosa così semplice, come non è semplice selezionare quali puntini sono rilevanti rispetto a quelli invece che possiamo trascurare e non è semplice nemmeno identificare la giusta sequenza numerica da attribuire ai puntini. Abbiamo mille possibilità di interpretazione agevolate dall'intelligenza artificiale, dall'altra parte rischiamo invece di perdere delle capacità. Rischiamo di perdere la capacità di interrogarci sulla differenza tra il vero e il verosimile, sulla distanza che c'è tra la realtà e la sua rappresentazione e ancora tra la realtà e le rappresentazioni più o meno manipolate o più o meno manipolabili della realtà. Stiamo perdendo la capacità di immaginare perché abbiamo a disposizione una tecnologia che è in grado di destrutturare la realtà, la complessità della realtà in una serie di unità interpretative come avere davanti le tessere di un mosaico e di riproporle, di rimodularle in un'infinità di modi possibili sempre rispettando gli schemi prestabiliti. L'immaginazione permette invece quelle tessere di rimescolarle, addirittura di capovolgerle o di spezzarle o di piegarle al di fuori delle regole. Stiamo perdendo la capacità di decidere perché ci stiamo abituando a sistemi che ci aiutano a scegliere cosa vedere alla sera quando siamo davanti alla televisione o che libro leggere o cosa regalare a chi per il suo compleanno. stiamo perdendo la capacità di perderci. Provate a pensare a un sistema di navigazione satellitare che ci porta dal punto A al punto B in maniera efficiente, veloce, inappuntabile. Però allo stesso tempo ci sta privando del potenziale enorme della scoperta di ciò che non conoscevamo. Stiamo certamente guadagnando in efficienza ma stiamo perdendo la possibilità di scoprire il valore dell'inatteso. Ecco, in qualche modo se ci pensiamo dopo secoli a cercare di creare delle macchine all'interno delle quali riprodurre l'intelligenza umana stiamo prendendo un po' l'abitudine noi umani di cominciare a ragionare come macchine, a semplificare la complessità di pensiero in una linearità di ragionamento. Ora, la riflessione istituzionale, la riflessione accademica, l'opinione pubblica in generale sta in qualche modo inducendo una riflessione che ci porta a considerare l'intelligenza artificiale come un'auto a cui imporre dei limiti di velocità. Intendiamoci, è fondamentale identificare, comprendere, perimetrare bene dei rischi perché le possibilità d'uso negativo o d'impatto deteriore vanno gestite, vanno arginate. Ma forse all'interno di questa condizione in cui vogliamo a ogni costo fornire delle risposte stiamo perdendo un po' l'attenzione nell'identificare le domande giuste. Forse invece di interrogarci su come limitare la forza, le potenzialità di una tecnologia dovremmo interrogarci su come valorizzare le capacità umane. forse anziché interrogarci su come l'intelligenza artificiale sia destinata ad ingannarci dovremmo interrogarci su come educare le persone, tutte le persone al pensiero critico. Forse invece di interrogarci su come evitare che le tecnologie rubino il lavoro agli esseri umani dovremmo concentrarci e identificare quali caratteristiche e quali capacità dell'essere umano sono irriproducibili. secondo la leggenda il golem riusciva a essere in vita e poteva rimanere in vita solo fin quando avesse avuto sulla fronte scritta completa la parola emet e qua si genera la magia emet significa verità sarebbe bastato cancellare una lettera anche solo un dettaglio un frammento della lettera perché la verità venisse meno l'energia della magia perdesse il suo collegamento col fondamento profondo della realtà e il golem stesso venisse ridotto nuovamente alla sua natura originaria di massa in forma di fango la magia ha bisogno di verità nel momento in cui viene meno la verità viene meno la capacità operativa la capacità di trasformare il mondo la capacità di incidere sulla realtà abracadabra che è il filo conduttore di questa serata ha un'etimologia ebraica significa creerò come ho detto in pratica dice che farò sarò in grado di fare a partire dalle parole che ho usato abracadabra è la capacità di generare azioni che possono trasformare la realtà che possono incidere sulla realtà in cui viviamo ma ha bisogno di questa corrispondenza di questa coerenza di questa sovrapponibilità tra la realtà e la sua rappresentazione nel momento in cui viene meno la verità o la capacità di comprenderla o di accettarla la verità viene meno anche la magia siamo a Cesena nel 2023 e poco è cambiato rispetto alla Praga del 1580 quando abbiamo di fronte una tecnologia un artefatto tecnologico che sia golemo che sia intelligenza artificiale che sa fare qualcosa meglio di noi dove finisce il valore dell'umano qual è il valore dell'umano che si posiziona nel mondo e che nel mondo deve cercare in qualche modo di comprendere di interagire con la realtà di coglierne le sfumature di coglierne le declinazioni qual è il valore della verità chi ne detiene il controllo e chi ne ha la responsabilità forse in qualche modo dobbiamo accettare che sono domande troppo grandi per una sola sera forse sono domande troppo complesse a cui rispondere anche unendo tutte le nostre intelligenze mettendoli insieme forse dobbiamo accettare il fatto che alcune domande non hanno bisogno di risposte ma semplicemente attivano un dubbio accendono un dubbio che deve rimanere lì come una condizione permanente non per eludere le domande non per eludere la questione ma perché certe domande hanno bisogno di scelte di vita di assunzioni di consapevolezza la verità è il tema che non riusciamo ad afferrare che dobbiamo imparare ad afferrare la responsabilità della verità è nelle mani di chi la riceve la responsabilità della verità è nelle mani di chi se ne fa portatore e sceglie di diffonderla di condividerla di rielaborarla dobbiamo accettare di interagire con le tecnologie con le nuove potenzialità delle tecnologie conservando davvero il valore dell'umano perché poi al di fuori dello schermo al di fuori dello smartphone di fronte a sistemi di raccomandazione che ci consigliano come fare cosa fare quando addirittura a volte ci suggeriscono il perché ci siamo noi ci siamo noi con le nostre fragilità con le nostre emozioni con le nostre insicurezze ci siamo noi con le potenzialità inespresse o le potenzialità da attivare con la volontà di fare cose con la capacità di stupirci o di stupire ci siamo noi per la responsabilità non delegabile di una vita da vivere ci siamo noi con la responsabilità di metterci di fronte a quella vita e di trovarne il senso grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti